... che viene addirittura dal Gargano, ragazzi, dal Gargano, come ti diamo? Riccola è venuta apposta dalla provincia di Foggia per venire qua a fronteare davanti a queste belle donne per venire a 26 anni, quindi... Riccola va a venire a fare a casa come farfalla, come farfalla, come farfalla, come farfalla, come farfalla, come farfalla, come farfalla... Bene, bene, ok, compie lì, allora ragazzi, io mi presento a chi non mi conosce, io sono Celestino, sono lui che ha inventato questo pollo, che si chiama, che si chiama, che si chiama, sono qualcosa come 14 anni, 3 mesi e 20 giorni, circa, e sono sui piatti, Allora, è iniziato, inizialmente, per venire a una lega, adesso, da qualche anno, che è un giro per i pali, insomma,